Dopo la vittoria a scacciacrisi di domenica scorsa in casa contro il Castellammare, la Nissa scende in campo domenica alle ore 15 al Vincenzo Presti di Gela, nel derby della ventitresima giornata. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di Mazzara e da una classifica deficitaria, che li vede occupare il terz'ultimo posto in classifica e quindi vogliono sfruttare il derby e l'impegno casalingo per affrontare i biancoscudati, che, nonostante la vittoria, hanno avuto difficoltà per avere la meglio sul Castellammare, che ha giocato in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. Impegno quindi non facile per gli uomini di Alessio Sferrazza, che cercheranno di confermarsi provando a vincere questo derby, che ambedue le parti ha un peso enorme per uscire da zone calde della classifica. Eccellenza, girone A, ventitresima giornata. Cus Palermo Mazzara. Castellammare Casteldaccia. Parmonval Sciacca. Don Carlo Misilmeri Resuttana. Enna Leonfortese. Nuova Città di Gela Nissa. Profavara Acragas. Mazzarese Oratorio San Ciro e Giorgio.